Buongiorno a tutti. Vediamo un esercizio che comporta il calcolo del termine incognito di una proporzione. In questo caso i termini, diciamo così, noti, ovvero il secondo, il terzo e il quarto della proporzione, non sono già dati, ma vanno calcolati risolvendo delle semplici espressioni, per cui non possiamo applicare subito la proprietà fondamentale e andare subito a calcolare il valore dell'incognita x. Dobbiamo prima risolvere quelle espressioncine tra parentesi, le quali vanno risolte in un unico passaggio, anche se sono separate, cioè la proporzione non va spezzata. Vediamo subito in che modo risolverle seguendo le regole che già conosciamo del calcolo con frazioni. Selezioniamo il nostro strumento penna e qui sotto riscriviamo x sta a parentesi, chiaramente qui abbiamo soltanto addizioni e sottrazioni nei termini tra parentesi, e quindi calcoliamo il minimo comune multiplo dei tre denominatori. Il minimo comune multiplo dei tre denominatori 18, 6 e 4 è 36. Andiamo ad operare adesso sui numeratori seguendo le consuete regole. Come diventerà questo 11? 36 diviso 18 per 11, 36 diviso 18 fa 2, per 11 22, più 36 diviso 6 6, per 1 6. Al solito divido sotto e moltiplico sopra, meno 36 diviso 4 per 3, 36 diviso 4 9, per 3 27. E chiudo la parentesi del primo termine. Come? Ricordiamo che nelle proporzioni l'uguale si legge come e il diviso del rapporto si legge sta a... Andiamo a risolvere l'altro, vedete, senza separare le varie espressioncine, ma risolvendole come un'unica espressione. Adesso dobbiamo fare 1 meno un quinto. Minimo comune multiplo 5 dei denominatori. Mi raccomando, quando abbiamo da operare tra numeri interi e frazioni, 1 si considera un primo, e quindi non bisogna lasciare 1 meno 1. Attenzione, perché purtroppo è un errore fin troppo comune. Questo 1 numero intero, 1 primo, diventerà 5 diviso 1, 5, per 1, 5. Il secondo, 5 diviso 5, 1, per 1, 1. Quindi, attenzione a non sbagliare quando si opera tra numeri interi e frazioni. Non mi stancherò mai di dirlo. sta a, altra parentesi, minimo comune multiplo tra 5, 9 e 15, scusate, sarà 45. Andiamo ad operare sui numeratori. 45 diviso 5, 9, per 3, 27, meno 45 diviso 9, 5, per 4, 20, più 45 diviso 15, è 3. A questo punto possiamo togliere le parentesi e fare tutti i calcoli, dato che si tratta soltanto di addizioni e sottrazioni. Quindi avremo, nel passaggio successivo, x sta a 22 più 6 fa 28, meno 27, 1, quindi il primo termine tra parentesi viene un trentaseiesimo, come 5 meno 1, 4, quindi 4 quinti, sta a 27 meno 20 fa 7, più 3, 10. 10, 40, 5 esimi, che a questo punto, qui lo posso fare, cambio colore. Io, anche se dopo, chiaramente, nelle varie operazioni mi si semplificherà a croce, però laddove posso semplificare in anticipo lo faccio. Questo 10, 45 esimi è semplificabile dividendo numeratore e denominatore per 5, e quindi 10 diviso 5, 2, 45 diviso 5, 9. Conviene sempre, nei calcoli, portarmi dietro due noni, anziché 10 quarantacinquesimi. Adesso che ho risolto tutti i termini, io che cosa faccio? Applico la proprietà fondamentale. Innanzitutto mi devo chiedere, la x è a un estremo o la x è a un medio? La x è in prima posizione, e quindi è ad un estremo. Quindi io conosco due medi e l'altro estremo. In questo caso, l'incognita, questa parte finale la scrivo con un colore rosso, sarà uguale a medio per medio diviso l'altro estremo. Ricordiamo sempre che la proprietà fondamentale, quella in base a cui si può calcolare il termine incognito di una proporzione, mi dice che in una proporzione il prodotto dei medi è uguale a quello degli estremi. Per cui, se la x, il termine da calcolare incognito, sta ad un estremo, si calcola moltiplicando tra di loro i due medi, secondo e terzo termine, ovvero un trentaseiesimo per quattro quinti, e dividere per l'altro estremo, quindi diviso due noni. Stavolta stiamo risolvendo le varie operazioni, quindi non si parla più di sta, ha e diviso, e come, ma stavolta i segni si leggono diviso e uguale, perché dalla proporzione stiamo passando alle semplici operazioni che mi calcolano l'incognita. Visto che la divisione tra frazioni diventa una moltiplicazione, invertendo i due termini della frazione, io direi di trasformarla tutta in moltiplicazione a tre fattori in un unico passaggio, cioè di farla diventare un trentaseiesimo per quattro quinti, e questo diviso due noni farlo diventare per nove mezzi, secondo la regola della divisione tra frazioni, in modo da poter fare delle semplificazioni a croce che mi danno direttamente il risultato in un unico passaggio. Allora, intanto posso semplificare il 4 con il 36. Nella semplificazione a croce, quando ho più moltiplicazioni, posso semplificare qualsiasi numeratore con qualsiasi denominatore. Anche l'ultimo numeratore col primo denominatore, per esempio il 9 col 36, si semplificano. Divido per nove, nove diventerà uno, e 36 diviso nove diventa quattro. Dopodiché, questo quattro sopra, con questo quattro a denominatore, li posso semplificare tutti e due per quattro, quattro diviso quattro uno, e quattro diviso quattro uno. Che cosa mi rimane? Sopra mi rimane uno per uno per uno, quindi sopra ho semplificato tutti i numeratori a uno, sotto mi rimane uno per cinque per due. Andando a fare le moltiplicazioni, il termine incognito mi vale uno per uno per uno fa uno, uno per cinque per due, dieci, e quindi l'incognita della proporzione vale un decimo. Proviamo adesso a calcolare il termine incognito in quest'altra proporzione. Ecco, qui vediamo che anche in questo caso abbiamo dei calcoli da fare dentro le parentesi, però stavolta abbiamo anche delle moltiplicazioni da risolvere, e quindi i calcoli dentro parentesi non si possono risolvere in un unico passaggio, quindi è leggermente più complessa, perché la moltiplicazione ha la precedenza. Quindi in questo caso dovremo fare, nel primo termine tra parentesi, prima, è chiuso sempre le mie sottolineature, dodici quinti per dieci noni, nella seconda parentesi dovremo fare prima un quinto per tre, mentre invece l'ultimo estremo tra parentesi non ci crea problemi, perché è una semplice addizione. Inoltre stavolta la x, l'incognita, si trova su un medio. Però, come nel caso precedente, non la possiamo calcolare subito, perché dobbiamo prima risolvere queste mini-espressioni tra parentesi. Per quanto riguarda la prima, tre ottavi rimane tre ottavi, più, e qui su faccio le varie semplificazioni, perché devo fare prima la moltiplicazione. Qui posso semplificare a croce, sia a sinistra che a destra, sempre il numeratore dell'una col denominatore dell'altra, il 10 con il 5 sotto si può semplificare dividendo tutti e due per 5, 10 diventerà 10 diviso 5 che fa 2 e 5 diventerà 5 diviso 5 che fa 1. Anche il 12 con il 9 si possono semplificare, per farlo capire meglio cambia un attimo colore, non direttamente per 9, perché 12 non è divisibile per 9, ma si potranno semplificare dividendo per 3. 12 diviso 3 mi rimane 4, 9 diviso 3 mi rimane 3. Quindi, questo risultato, moltiplico sopra quello che mi è rimasto, sopra abbiamo 4 per 2 che fa 8, e sotto abbiamo 1 per 3 che fa 3. Quindi qui compaiono anche delle altre operazioni. Meno 35 dodicesimi, che mi rimane uguale. Tutto questo sta ad x come, tonda, 4 terzi rimane uguale, e ricordiamo che quando abbiamo una frazione per un numero intero, il numero intero andrebbe scritto sopra, in questo caso non è possibile semplificare a croce, perché il 3 col 5 sono primi tra loro, e quindi si moltiplica il numero intero per il solo numeratore, cioè si considera come numeratore, come 3 primi. Sopra 3 per 1 che fa 3, e sotto 5 per 1 che fa 5. e chiudiamo la parentesi. Quindi un quinto per 3 è 3 quinti. Tutto questo sta a, sotto denominatore 5, attenzione perché 4 è sempre 4 primi, quindi sopra non sarà 4 più 9, ma avremo 5 diviso 1, 5, per 4, 20. Infatti 20 quinti è equivalente a 4. Bene, ricordando il discorso delle frazioni apparenti. Più 5 diviso 5 per 9 fa 9. Ecco, ricordiamo, se vogliamo usare un trucco per evitare questo ragionamento, quando il denominatore rimane uguale, rimane uguale anche il numeratore. Quindi se non cambia il 5, non cambia neanche il 9. Adesso, tra parentesi, facciamo come prima, perché non abbiamo più le moltiplicazioni o le altre operazioni. 8, 3, 12, minimo comune multiplo, 24, 24 diviso 8, 3, per 3, 9, più 24 diviso 3, 8, per 8, 64, meno 24 diviso 12, 2, per 35, 70. Sta a x come minimo comune multiplo 15, perché 3 e 5 sono primi tra loro. Quindi posso fare soltanto 3 per 5. Numeratori, 15 diviso 3 fa 5 per 4, 20, più 15 diviso 5 è 3, per 3, 9. Sta a, qui possiamo direttamente togliere la parentesi, 29 quinti. Adesso andiamo a fare questi calcoli. Siamo quasi arrivati alla fine. Possiamo togliere le parentesi. Qui sopra facciamo 9 più 64, che fa 73, meno 70, quindi primo termine, abbiamo 3, 20, quattresimi. Di nuovo, cambio colore, posso semplificare, dividendo sopra e sotto per 3, 3 diventa 1 e 24 diventa 8. Quindi 3 ventiquattresimi è in realtà un ottavo. Un ottavo, quindi, sta ad x. Altra cosa che non mi stancherò mai di dire, quando c'è la possibilità di semplificare le frazioni, va fatto, perché altrimenti quando poi dobbiamo moltiplicare o dividere o fare altre operazioni, portare dietro numeri grandi quando non è necessario, può creare problemi di calcolo. Da questa parte abbiamo 29 quindicesimi, che chiaramente non si può semplificare. sta a 29 quinti. A questo punto la x la posso andare a calcolare, anzi, esattamente come prima, cambio colore, perché stavolta abbandono la proporzione e passo alla fase risolutiva. Infatti i per li chiamerò per, gli uguali li chiamerò uguale e i diviso li chiamerò diviso, perché stavolta siamo tornati nel campo delle operazioni aritmetiche. Stavolta la x sta a un medio, per la consueta proprietà dell'uguaglianza del prodotto dei medi e degli estremi, se la x sta ad un medio, io la trovo, la calcolo, moltiplicando i due estremi, primo e ultimo termine, cioè un ottavo per 29 quinti e divido per il medio rimasto, quindi divido per 29 quindicesimi. Ma ricordando l'esempio precedente, per fare tutto in un passaggio, anziché scrivere diviso 29 quindicesimi, scrivo per 15 ventinovesimi. Che succede? Immediatamente semplifico 29 e 29. Ogni numeratore si può semplificare con un denominatore quando ho un'espressione fatta di sole moltiplicazioni, come in questo caso. Naturalmente, quando numeratore e denominatore semplificati sono uguali, diventano tutti e due 1. Cos'altro posso semplificare? L'8 con il 15 non posso, ma il 5 con il 15 sicuramente sì. Divido tutti e due per 5. 5 diviso 5 è 1. 15 diviso 5 è 3. Cosa mi rimane sopra? 1 per 1 per 3. Cosa mi rimane sotto? 8 per 1 per 1. L'incognita in questa proporzione vale 3 ottavi. Ci vediamo prossimamente per altri tutorial e per altri esercizi guidati. Ciao a tutti!